Ciao, sono l'uomo Linken, ma puoi chiamarmi Linkenman, il tuo assistente internet. Seguimi e tutto sarà più facile. Ti mostrerò tutti i vantaggi del nostro innovativo servizio internet. Se abiti in una grande città o in un'area non raggiunta da internet, per me fa lo stesso. Tanto arrivo ovunque. Linken risolve tutti i tuoi problemi di connessione internet. Puoi navigare senza linea fissa e senza i limiti della chiavetta. Puoi connettere in wifi lo smartphone, il tablet e il pc. Come con il modem Linkenman. Il nostro servizio è trasparente, senza limiti di tempo, di traffico e senza costi aggiuntivi. Che vuol dire senza sorprese. Benvenuta trasparenza. Il modem da interno ti segue ovunque nelle aree raggiunte dal nostro servizio. Per farti navigare sempre senza limiti. È importante posizionarlo vicino ad una finestra. Attaccalo alla presa, inserisci le tue credenziali di accesso e inizia subito a navigare. Scegli il nostro servizio internet. Il 70% dei nostri clienti ha già consigliato Linkenman ai suoi amici. Linken. Internet revolution.